Un saluto dalla redazione del GR Asi, in studio Marco Paganelli. Parleremo tra poco della gravissima crisi ucraina, ma dedichiamo l'apertura alla fortissima scossa sismica di magnitudo 6.7 Richter nella città più grande dell'Alaska, in Corage. Il terremoto è avvenuto oggi alle 18.29, ora italiana, ad una profondità di soli 20 chilometri. Diramata è revocata poco dopo l'allerta maremoto. Nessuna vittima, ma danni agli edifici. Molte immagini sui social network mostrano voragini profonde nelle strade. Il presidente ucraino Petro Poroshenko ha ordinato il divieto di entrare nel suo paese per gli uomini russi di età compresa tra i 18 e i 60 anni, per evitare la formazione di distaccamenti di eserciti privati che rispondano agli ordini di Mosca. La crisi in corso è al centro del G20 di Buenos Aires che ha preso il via oggi. Il presidente americano, Donald Trump, ha annullato l'incontro di domani con l'omologo del Cremlino Vladimir Putin fino a quando quest'ultimo non rilascerà i marinai ucraini arrestati nello stretto di Kerch per aver sconfinato nelle acque territoriali dello Zar. Appello del premier italiano Giuseppe Conte per la loro liberazione. La Russia cambia atteggiamento e il monito del numero uno di Palazzo Chigi. Agenzia Stampa Italia, saputo intanto da fonti diplomatiche autorevoli, che sarà convocato per la prossima settimana un vertice dei ministri degli esteri della Nato per parlare proprio di quanto sta accadendo nel mare Dazov. Nuovo attacco presumibilmente israeliano ieri sera in Siria. Colpita nei pressi della capitale Damasco soprattutto una base militare iraniana e un deposito di munizioni di Hezbollah. Dura la risposta della contraerea del presidente Bashar al-Assad che, secondo alcune fonti, avrebbe abbattuto un jet di Tel Aviv, ma l'aviazione di Benjamin Netanyahu ha definito l'informazione priva di ogni fondamento. Veniamo ora in Italia. La disoccupazione è aumentata nel nostro Paese a ottobre dello 0,2%, raggiungendo così il 10,6%. I giovani senza lavoro sono il 32,5%, lo 0,1% in più su base mensile e l'1,6% su quella annua. Lo ha comunicato oggi l'Istat. L'occupazione delle persone tra i 15 e i 24 anni è al 17,6%, lo 0,1% in più rispetto al mese precedente e lo 0,3% sull'anno scorso. Chiusura in positivo per Piazza Affari. L'indice Fuzimib della Borsa di Milano ha concluso le contrattazioni odierne in rialzo dello 0,15% a 19.188 punti. Per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto. Ci risentiamo nel prossimo appuntamento del GR Asi. Grazie. 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 Grazie.